A Ischia Ponte ritorna a fare parlare di sé il disastro ambientale, economico e sociale del costruendo parcheggio della Siena, in modo negativo ovviamente. Infatti oggi pomeriggio, così come testimoniano i video inviatici dai bagnanti, si è verificato all'ennesimo sversamente nel mare antistante la spiaggia del muro rotto, di acqua di colore marrone. Uno spettacolo indecoroso, soprattutto in questo periodo in cui la spiaggia ischitana è frequentatissima da residenti e turisti. Uno spettacolo talmente indecoroso che i bagnanti presenti sulla spiaggia sono giustamente insorti, rivolgendosi al comando di vigili urbani e alla capitaneria di porto, i cui uomini sono prontamente intervenuti. Al centro dell'attenzione del sopralluogo congiunto di capitaneria e comando vigili, così come è capitato altre volte, sono finite le vasche di decandazione che raccolgono l'acqua dalla falda e che probabilmente potrebbero essersi riempite di sabbia e di terriccio, ma saranno gli accertamenti già in corso a stabilire quali siano le reali cause del nuovo e anomalo sversamento a mare di acqua di colore marrone. Intanto è giunto il momento di mettere fine a questa vergogna che periodicamente si verifica nel mare di schiaponte. Non bastava il disastro ambientale causato dallo scavo e dal costruendo parcheggio. Non bastava il covid-19 e le relative restrizioni sulla spiaggia del muro rotto. Per non farci mancare nulla, anche quest'anno c'è stato l'anomalo sversamento a mare. Amministratori comunali di Ischia e sindaco Enzo Ferrandino, ma vogliamo mettere in fuga i pochi turisti giunti nel nostro comune o risolvere una volta e per tutte questa indecenza?